Ehi, che aspetti? Corri a scaricare la nostra app, è gratis, ci sono news, contest, guide e molto altro. Cercala per iPhone e iPad, ed il link lo trovi qui sotto in descrizione. Ehi, salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con Apple Zane, sono qui nel nuovo appuntamento con la serie Unboxing, tre pacchi signori oggi, tre dei pacchi, mi hanno suonato ad orari completamente differenti, e uno me l'ha consegnato poste italiane, anzi due me l'ha consegnato di poste italiane, e questo invece è il Corriere GLS, ma andiamo subito ad aprire il primo pacco, che è quello che mi è arrivato stamattina, il primo in ordine cronologico, e andiamo a vedere cosa c'è dentro. Ci sono due prodotti, vediamo, cominciamo col primo, è una custodia per iPhone 7 Plus, della iVapo, iVapo credo si chiama, o iVapo non lo so, in base a come lo pronuncia l'azienda, credo iVapo, questa qui, trasparente con insert in alluminio sopra, molto molto carina. Invece il secondo prodotto che mi hanno mandato è, sempre della iVapo, una charging station per iPhone ed Apple Watch, quindi ricaricare sia iPhone che Apple Watch in contemporanea con una basetta davvero carina, ragazzi, li voglio aprire, ma ovviamente saranno tutte nelle recensioni che faremo, ma iniziamo con gli altri due pacchi provenienti da Amazon. Signori, Amazon, dovrei già sapere cosa sono, questa è la sorpresa, no, non c'è sorpresa perché già so cosa sono, sono i prodotti della UK, come ricordo, nostro partner. Allora, iniziamo con le cose piccole, allora abbiamo un cavo jack jack da 3,5 mm da ambe le parti, in alluminio, carino, bello, bello, con il cavetto simile a questo, questo che ho per iPhone, quello tipo indistruttibile, bello, bello, questo è da recensire, mi serviva. E poi abbiamo una cuffia in ear, un paio di cuffie in ear con microfono, sempre della UK, molto molto carino, ragazzi, tutte queste cose andranno recensite. Poi abbiamo altre cuffie, wireless, con supporto wireless per lo sport, sempre della UK, queste sono molto 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 carine, belle, queste tutte da provare. E poi, ultimo pacco di oggi, il pacco più grande dovrebbe essere sempre della UK, ma vediamo, vediamo, vediamo cosa c'è dentro, dovrei comprare un taglierino nuovo, poiché mi scazzo proprio ad andare ad uscire per comprare un taglierino, magari lo ordino su Amazon, non lo so, vediamo. Tanto mi arrivano tanti pacchi da Amazon, un giorno faremo l'unboxing del mio taglierino con un taglierino, cioè sarà bellissimo, ragazzi. Ok, pacco quasi aperto, è praticamente imballatissimo. Oh, finalmente mi hanno mandato i prodotti che ho richiesto, ragazzi, io giuro vorrei non farveli vedere per quanto sono belli. Allora, iniziamo con il primo. Allora, questo è un treppiedi, molto molto bello, l'ho richiesto proprio specificatamente, compatibile con iPhone, anche con dispositivi Android, molte foto, cattura video senza il tremolio delle mani, io questo lo devo provare proprio immediatamente, e poi ragazzi, ragazzi, ve la devo far vedere, ve la devo far vedere. È una action camera da 1080p, che credo sia anche, sì, wifi, è come fosse una GoPro però della UK, molto molto bella, questa da provare in maniera approfondita. Me la porterò, credo, quando andrò ai riparo, come vi ho detto, devo andare dai riparo per qualcosa di non so, non so, ve la farò vedere poi, 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 poi. Io come sono i ragazzi, vi ringrazio per aver visto questo nuovo video, arriviamo a 100% del prossimo episodio, iscrivetevi e commentate, ci vediamo al prossimo punto, sempre qui con Mirko, per Apple Zane, ciao! Grazie a tutti!